. 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 davvero grato e commosso dal tuo supporto nel tempo passato, questa sarà una grande motivazione per me per produrre prodotti video di qualità superiore in futuro, per favore aspettalo, ti auguro una giornata produttiva e fortunate, ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, orosco pariete di oggi.Luna e sole praticamente amici, basta mugugni tra la bianca signora e il sole in segno stili l'uno all'altro, da stasera la nostra stella entra in acquario, dirigendosi verso gli altri inquilini Saturno, Giove, Mercurio, scornata solo Venere, che perde il suo brillante amico in fatto di amicizie sete letteralmente sommersi di messaggi, chiamate, foto, segno che il vostro mondo sociale è ricchissimo e tutti vi portano in palmo di mano, nonostante il vostro carattere non esattamente zuccherino, siete persone speciali e gli altri lo sanno, astro tarocco del giorno per ariete l'appeso rovesciato, amori non corrisposti, illusione sul conto di persone che alla fine ci deluderanno, sconfitte in amore, tradimenti, ma anche e soprattutto il consultante potrebbe essere innamorato di qualcuno impegnato, sposato, separato, divorziato, anche i single potrebbero incontrare persone sbagliate o comunque impegnate, se oggi i problemi si accavallano sarà stata solo colpa vostra, siate più attenti e curate meglio i vostri interessi sia sul lavoro che in amore, giornata da trascorrere in compagnia, nuove preziose conoscenze, favori dagli amici, accetta inviti a cocktail, party e so ricevimenti, elimina ciò che non ti serve più, ma non abbandonare o trascurare gli animali, buone idee per risolvere un problema, se sei uno studente ottimi risultai con il minimo sforzo, non crogiolativi in un rapporto di coppia preconfezionato, dovete alimentarlo giorno dopo giorno, se il vostro partner oggi vi sembrerà particolarmente egoista, sappiate che è perché siete voi a concederglielo, un invito a pranzo o a cena, sarete particolarmente interessati ad argomenti spirituali o religiosi, si prospettano serate in allegria in compagnia di belle persone, bene l'umore anche se la vostra serenità a tratti oggi scricchiola, potreste avere un piccolo colpo di fortuna nel tardo pomeriggio, inutile oggi fare scenate di gilosia, e questo vale sia per il partner che per gli amici o per i colleghi di lavoro o di studio, piuttosto cercate di consolidare i piccoli successi che Giove Benigno vi ha offerto in questa ultima parte, oggi un vecchio amico tornerà a cercarvi, se potete passate con lui qualche momento della vostra giornata, ma non rimurginate, il tempo sistema tutto e vedrete che già alla fine di questo giorno le cose torneranno chiare, conservando il sorriso troverete la soluzione giusta per la situazione in cui vi trovate, novità in vista in campo economico, non abbiata paura di iniziare una conversazione che parli di cose un po' più serie con il vostro partner, un colpo di fulmine potrebbe improvvisamente cambiarvi la vita e trascinarvi in un vortice di emozioni, come non le avevate provati da tempo, siete sotto l'influenza di una svolta quest'oggi e si tratta del passaggio del luminare dello zodiaco, la parte attiva, vitale, maschile della personalità, il sole, che entra nel segno dell'acquario alle ore 21 e 41, la luna invece, continua ad essere ospitata nel vostro segno, questo cambiamento di scenario fa sì che anche le vostre sciance oggi siano diverse, migliorino considerevolmente da vari punti di vista, a spalleggiarvi dandovi benessere, bellezza fisica, simpatia, c'è sempre uno strepitoso giove nel segno amico dell'acquario, vi sorride soprattutto se siete nati dal giorno 24 al 29 del mese di marzo, una luna favorevole dona grande smalto alle coppie, per cui ci sono ottime prospettive amore, se siete single, è il momento di guardarsi attorno per trovare l'anima gemella, per quanto riguarda il lavoro, non è un periodo negativo anche se l'ultimo anno non è stato dei migliori, forse è il caso di iniziare a pensare positivamente, oggi ci si sente davvero forti ed è tutto merito della luna che è ancora nel segno, c'è chi sentirà la voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e chi vorrà buttarsi in qualche nuovo progetto tornando così sotto i riflettori, state tornando gli ariete di sempre, unica cosa, fate attenzione al disagio in amore soprattutto se c'è distanza con il partner, cercate di mantenervi sempre attivi in questa giornata, perché è un momento di riposo e rilassatezza estrema, che potrebbe portare qualcuno ad approfittarsi di tale condizione, quando qualcuno vi chiederà un piccolo favore, alzate le antenne, punto. Non in tutti i casi infatti, sarà così piccolo e così semplice, come vorranno farvi credere, valutate bene tutti i pro e i contro, ma soprattutto valutare se sarete in grado di farlo senza affaticarvi troppo. Luna ancora protagonista nel vostro segno, leggermente conflittuale con Venere, che capricciosa allo zenit reclama più attenzioni, ma amichevole invece nei confronti di Mercurio Aquariano, appunto pianeta della comunicativa e dell'amicizia, raggiunto in serata dal sole, finalmente una bella notizia, finalmente l'astro del giorno non sarà così ambizioso ed esigente nei vostri confronti, indizio che anche il vostro capo diventerà più malleabile, o almeno, si spera. Punto. Amore ed eros, che vinciate a voi o i partner, non cambia, qualcuno dei due sta sopra le righe, cosa che all'unità di coppia non giova e la vostra anima impulsiva perde la direzione, dolci e profonde le amicizie, se c'è qualcosa da chiarire fatelo subito, tornerete pappa e ciccia, un clima di leggerezza e di freschezza, malgrado il pieno inverno, vi invade, se il vostro cuore è libero, vi dedicate a muovervi verso conquiste che volevate realizzare da tempo, se invece siete sentimentalmente impegnati, vi godete un invito a casa di amici di famiglia simpatici, che vi accolgono in simpatia e con aria di completo relax. Lavoro e denaro, forti ambizioni soprattutto per i creativi, peccato oggi non siate in bene, le idee vi piovono confusamente in mente, ma tra l'impazienza e le interferenze esterne non combinate granché, meglio in azienda con lo staff completo, grazie allo scambio di ruoli e informazioni tutto prende a filare liscio, regalandovi ottime soddisfazioni, non vi fate prendere dalla stanchezza e dall'apatia e approfittate della diminuizione degli impegni che si verifica oggi, per completare alcune incombenze lasciate in sospeso nei giorni scorsi, Marte e Luna entrambi propizi vi ricaricano di energie in tarda mattinata, benessere, l'aspetto non è splendido, ma da quando la pandemia galoppa e la mascherina è un must, vi sentite molto meno motivati a mettervi in ghingeri e a curare capigliatura, trucco, abbigliamento, nulla da ridire comunque sul fisico, state benone e nonostante la sedentarietà obbligata dalla circostanze, la vitalità è ottima, per lei, luce sull'amicizia, che non può e non dovrà diventare amore, meglio che resti così, pulita e senza sbavature, nessuno dei due correrà il rischio di doversene pentire, per lui, la vostra lei resta intoccabile, il punto più alto dei vostri affetti, ma se trascorrete la serata con un paio di amici nessuno dovrà aversene a male, monogami non significa solitari, colore delle emozioni, azzurro cielo, barometro dell'umore, sereno, pagellina del giorno, sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8, queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno, ci vediamo. Grazie per aver guardato i miei video. Grazie per aver guardato i miei video.